Grazie a tutti Siamo davvero nella settimana in assoluto più santa di tutto l'anno, stiamo per vivere, per celebrare gli eventi culminanti, cardine della nostra redenzione, questa settimana è pienissima di grazia. Io prima di iniziare la catechesi di oggi, sulla Divina Volontà, raccomando a tutti e lo raccomando insomma da sacerdote, la massima partecipazione possibile alle sacre liturgie e anche ai gesti devozionali di questa settimana. Grazie a tutti. E' veramente straordinario, bello, toccante e altamente istruttivo. Sapete che la Santa Madre Chiesa attraverso la liturgia conduce i suoi figli, li prende per mano e li fa penetrare dentro i misteri della nostra redenzione. Per cui non scivoli via questa settimana, trovando tempo per tante cose, tranne che per la cosa più importante, perché davvero questa settimana, come ho detto nell'Omelia domenica scorsa, bisognerebbe che si fermasse tutto. Tutti fermi e sarebbe cosa assolutamente normale se uno pensa a quello che è successo durante questa settimana. Almeno noi credenti, lasciamo perdere quelli che non ci credono, contemplando il mistero di Dio che soffre la passione, che muore per la nostra salvezza, dovremmo fermarci. Fermi tutti, guardare, meditare, contemplare, pensare, stare in silenzio, rivedere la nostra esistenza, vivere questa settimana così come dovrebbe essere vissuta. Oggi siamo alla trentanovesima domenica, sì, trentanovesima domenica scusate, siamo alla trentanovesima puntata di questo ciclo di catechesi dedicati al dono della divina volontà e tra i brani di questa sezione chiamata antologia dei brani del divino in volere, oggi era ovvio di andare a prendere un brano connesso direttamente con la passione. Perché sappiamo che la divina volontà trova una espressione, diciamo così, biblica e cristologica fondamentale, dove? Nel Gezzemani. Nel Gezzemani quando Gesù disse a Bà, Padre, allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà, non mea, sed tua voluntas fiat. Quindi anche lui ha pronunciato, commento, in ogni istante della sua esistenza, questo grande fiat nell'orto degli olivi. E c'è uno scritto, sempre dallo spettacolare volume sedicesimo, io penso che il volume sedicesimo sia uno dei più belli di tutti gli scritti, almeno per quanto riguarda me personalmente, perché è davvero ricco di tanti testi significativi. Il 4 gennaio del 1924 si trova proprio uno scritto che si intitola, con le parole di Gesù nell'orto, Nomea voluntas sed tua fiat, contrattò col suo celeste Padre che la volontà divina prendesse il suo primo posto d'onore nella creatura. Quindi questa preghiera di Gesù, che è stata variamente interpretata nel corso della storia da interpreti, scrittori ecclesiastici, seggeti di vario genere, Gesù ne dà una lettura, noi sappiamo che c'è già una lettura di questa frase che Gesù dà nelle ore della passione, che già corregge un po' una visione un po' troppo umana, diciamo così, di Gesù, quasi che Gesù, come dire, dicesse al Padre, è troppo grande questo calice, però se proprio non ne possiamo fare a meno, va bene, lo affronto. Gesù la corregge un po' questa interpretazione nel corso della passione, ma dice, qual è il calice che non posso sopportare? È che le anime non facciano la nostra volontà. Quindi questo che non c'è, non posso vedere le anime andare alla rovina facendo la volontà propria, nonostante che io mi stia immolando per loro per dargli la redenzione e, come conseguenza della redenzione, l'ultimo atto, diciamo così, della redenzione, in senso cronologico, ma il primo per quanto riguarda il desiderio dell'Altissimo, ridare a loro la grazia di poter vivere nel divino volere. Già questa è una correzione di tiro data da Gesù in persona, proprio in una delle tre ore del Getsemani, che si trovano nelle 24 ore della passione. Qui vedremo che c'è qualcosa di ulteriore. Dato il clima della Settimana Santa, il giovedì sera, vi invito tutti, prima parlavo dei riti della Settimana Santa, ma ci sono anche dei gesti devozionali, alcuni diffusi quasi dappertutto, tipo la veglia all'altare della Reposizione del giovedì sera, che appunto commemorano, generalmente le veglia si fanno dare 9 fino a verso mezzanotte, proprio in ricordo delle tre ore di agonia di Gesù nel Getsemani, no? C'è la via Crucis del Venerdì Santo, che si fa generalmente verso le 21 del Venerdì, dopo che il pomeriggio è stata fatta l'azione liturgica della collaborazione della passione, e in qualche parrocchia si va diffondendo, io sono anni che la faccio, la bellissima tradizione dell'ora dell'addolorata, no? il sabato santo, nel giorno in cui, ecco, la Chiesa fa silenzio e volge lo sguardo alla Madonna, che visse il suo giorno di dolore, ma anche il suo giorno di grandissima gloria, e il suo giorno di grandissimo beneficio fatto alla Chiesa, perché fu l'unica a conservare integra la fede nella risurrezione, eppure nello strazio del dolore, ecco, ad attendere con fermissima fede l'alba della risurrezione, la Madonna era certissima che Gesù sarebbe risorto, l'ha atteso, e come ci ricordava San Giovanni Paolo II, è stata colei che ha avuto il privilegio di vedere per primo Gesù risorto, giustissimamente, dopo aver tanto sofferto a causa di quello che ha visto, povera la nostra madre, uno spettacolo orribile del Calvario. Allora, passiamo alla lettura di questo scritto, che ci aiuterà a entrare un po', ecco, nella settimana santa, insomma, ecco, e la settimana santa, che sapete, si culmina con l'inizio del triduo che comincia con la Messa Crismale, no? Già la Messa Crismale fa parte del Giovedì Santo, in alcune diossi, come anche nella mia, viene anticipata al mercoledì sera, quindi per alcuni già da domani si entra proprio nel culmine di questi giorni benedetti, no? Quindi, mi raccomando, viviamoli bene e che anche questo che stiamo per ascoltare possa aiutarci a viverlo al meglio possibile. Allora, qui troviamo scritte queste parole, no? Stavo pensando alle parole di Gesù nell'orto quando disse Padre, se è possibile, passi da me questo calice, però non mea voluntas sed tua fiat ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, credi tu che fu il calice della mia passione? Per cui dicevo al Padre Padre, se è possibile, passi da me questo calice? No, non affatto Era il calice della volontà umana che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi che la mia volontà umana unita alla divina provò tale ribrezzo Terrore, spavento che gridai Padre, se è possibile, passi da me questo calice Com'è brutta la volontà umana senza la volontà divina che quasi come dentro di un calice si rinchiuse dentro di ciascuna creatura Non c'è male nelle generazioni di cui essa non sia l'origine il seme, la fonte Ed io vedendomi coperto di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà innanzi alla santità della mia mi sentivo morire e sarei morto di fatti se la divinità non mi avesse sostenuto Ma sai tu perché soggiunsi e per ben tre volte non mea voluntas sed tua fiat io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature unite insieme tutti i loro mali e a nome di tutti gridai al Padre non più la volontà umana sia fatta sulla terra ma la divina la volontà umana sia sbandita e la tua vi regni sicché fin da allora e lo vuoi di fare fin dal principio della mia passione perché la cosa che più mi interessava e la più importante era chiamare sulla terra il fiat voluntas tua cominciare così in terra io ero a nome di tutti che dicevo non mea voluntas sed tua fiat fin da allora io costituivo l'epoca del fiat voluntas tua sulla terra e col dirlo per ben tre volte nella prima la impetravo nella seconda la facevo scendere nella terza la costituivo regnante e dominatrice e come dicevo non mea voluntas sed tua fiat io intendevo di svuotare le creature della loro volontà e riempirle della divina prima di morire perché non mi restavano che ore io vogli contrattare col mio celeste padre il primo scopo per cui venni sulla terra che la volontà divina prendesse il suo posto d'onore nella creatura era stato questo il primo atto dell'uomo sottrarsi dalla volontà suprema e quindi fu questa la nostra prima offesa ricevuta dall'uomo tutti gli altri mali e di lui entrano nell'ordine secondario e io dovetti prima realizzare lo scopo del fiat voluntas tua come in cielo così in terra e poi formare con le mie pene la redenzione attenzione a quello che dice perché la stessa redenzione entra nell'ordine secondario è sempre la mia volontà che tiene il primato in tutte le cose e sebbene dei frutti della redenzione si videro gli effetti fu in virtù di questo contratto che io feci col mio divin padre che il suo fiat doveva venire a regnare sulla terra realizzando il vero scopo della creazione dell'uomo ed il mio primo scopo per cui venni sulla terra che l'uomo potette ricevere i frutti della redenzione altrimenti sarebbe mancato l'ordine della sapienza se il principio del male fu la sua volontà io questa dovevo ordinare e ristabilire cioè riunire volontà divina e umana e sebbene si videro i primi i frutti della redenzione questo dice nulla la mia volontà è qua re che sebbene il primo fra tutti arriva ultimo precedendolo per suo onore decore i suoi popoli eserciti ministri principi e tutta la corte regale sicché prima erano necessari i frutti della mia redenzione per far trovare la corte regale i popoli gli eserciti ministri all'altezza della maestà della mia volontà ma sai tu chi fu la prima a gridare insieme con me non mea volontas sed tua fiat fu la mia piccola neonata nella mia volontà la mia piccola figlia che ebbe tale ribrezzo tale spavento della sua volontà che tremante si strinse a me e gridò insieme con me padre se è possibile passi da me questo carice della mia volontà e piangendo soggiungesti insieme con me non mea volontas sed tua fiat ah sì fossi tu insieme con me in quel primo contratto col mio celeste padre perché ci voleva almeno una creatura che doveva renderlo valido questo contratto altrimenti a chi donarlo a chi affidarlo e per rendere più sicura la custodia del contratto ti feci dono di tutti i frutti della mia passione schierandoli intorno a te come un esercito formidabile che mentre tiene il suo regale corteggio alla mia volontà fa guerra accanita alla tua volontà perciò coraggio nello stato in cui ti trovi smetti il pensiero che io possa lasciarti andrebbe a scapito del mio volere essendo che tengo il contratto della mia volontà deposto in te onde stati in pace è la mia volontà che ti prova che vuole non solo purgarti ma distruggere anche l'ombra della tua volontà onde con tutta pace segui il volo nel mio volere non ti dare pensiero di nulla il tuo Gesù farà in modo che tutto ciò che potrà succedere dentro e fuori di te farà risaltare maggiormente la mia volontà e allargerà in te i confini della mia nella tua volontà umana sono io che manterrò la battuta nel tuo interno affinché diriga tutto in te secondo il mio volere io non mi occupai di altro che della sola volontà del padre mio e siccome tutte le cose stanno inissa perciò mi occupai di tutto e se una preghiera insegnai non fu altra che la volontà divina si faccia come in cielo così in terra ma era la preghiera che racchiudeva tutto sicché io non mi aggiravo che intorno alla volontà suprema le mie parole le mie pene le mie opere i miei palpiti erano pregni di volontà celeste così voglio che faccia tu devi tanto girare intorno ad essa da farti bruciare dall'alito eterno del fuoco della mia volontà in modo da perdere qualunque altra conoscenza e di null'altro sapere che solo è sempre il mio volere ecco non so chi è rimasto ancora vivo dopo la lettura di questo di questo splendido spettacolare a mio avviso brano che adesso come di consueto ripercorriamo io andrò a fare un po' di pick up di qualche frase chiave frase clou per rimeditarci insieme quindi per riorganizzare un pochino di idee cogliere il cuore dell'insegnamento che Gesù dà attraverso questo episodio c'è una cosa fondamentale l'abbiamo già vista qui viene perfettamente riconfermato che il grido la preghiera di Gesù nell'orto non era finalizzata come dire ad una ad un superamento di una sorta di impasse dinanzi all'imminenza della passione padre non ce la faccio vorrei evitare tutte queste sofferenze però se tu lo vuoi dammi la forza di entrarci e di superarle non è questo Gesù dice chiaramente credi tu che fu il calice della mia passione per cui dicevo al padre se è possibile passi da me questo calice no non ha fatto tassativo io sono categorico e quindi qual era il calice che doveva passare il calice della volontà umana era il calice della volontà umana che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi che la mia volontà umana unita alla divina provò tale ribrezzo terrore spavento che gridai padre se è possibile passi da me questo calice cioè nel Gezzemani come dire c'era una concentrazione nella sofferenza spirituale che Gesù ha subito di tutta la radice che poi lo spiega del male presente nel mondo che non è altro che la volontà umana la volontà umana è un ricettacolo di tutti i vizi possibili e immaginabili e di tutte le amarezze cioè Gesù ti sta dicendo una cosa guarda che tu stai tanto amareggiato stai tanto triste tanto quanto lasci libera di operare autonomamente e diversamente distaccatamente dalla volontà di Dio la tua volontà è un'equazione questa qui per cui chi è il triste secondo la rivelazione chi fa la propria volontà chi è il felice chi fa la volontà di Dio quindi abbiamo queste quanto sei felice quanto sei triste ecco ti collochi subito seduta stanco questo in generale e in particolare come fai a capire che stai uscendo un po' dal divin volere questo termine tecnico che si impara negli scritti di risa appena cominci ad avere un po' di tristezza un po' di turbamento un po' di cose del genere stai uscendo dal divin volere stai assecondando la tua volontà umana sono come dire sono quasi equazioni queste qui oppure proporzioni volontà divina sta volontà umana come felicità sta tristezza d'accordo? quindi sono proprio cose da scienza matematica e Gesù poi gli esce come è brutta la volontà umana senza la volontà divina che quasi come dentro un calice si rinchiusa dentro di ciascuna creatura attenzione non c'è male attenzione non c'è male nelle generazioni quindi male in senso tutto il male quindi ci parlo di male fisico psichico morale spirituale e diabolico sono le varie forme di male possibili e immaginabili sono queste le forme di male possibili e immaginabili il male fisico la sofferenza la malattia la violenza d'accordo? e il freddo e il caldo impazziti dei clima ecco il male fisico il male psichico uff la psiche dell'uomo che cosa è oggi? io adesso comincio a averci un po' di anni di sacerdozia alle spalle è un guaio grosso il male psichico perché il male psichico più tante volte ho detto la psicologia la psichiatria ci fanno qualcosa quando sono fatte bene d'accordo? ci vorrebbe come dire la fede che sposta le montagne e non c'è quasi mai ecco per cui gli innumerevoli mali psichici che ci portiamo dietro le nevrosi le psicosi le fragilità le psicolabilità le ferite non guarite ci ho fatto le catechesi sono un disastro sono un disastro che fanno poi commettere alle persone le azioni più 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 sgangherate più strampalate a volte più infami che si possano commettere dentro i meandri delle psichi fragili io l'ho imparato questo qui ci sguazza il demonio senza che uno sia indemoniato senza che c'è bisogno dell'esorcista proprio sguazza e da dove viene questo? dalla volontà umana dalla volontà umana male fisico psichico morale tutte le forme di peccato che si possono immaginare tutte tutti i disordini tutti tutti i vizi capitali tutte le trasgressioni dei dieci comandamenti qualunque cosa mettiamoci tutto quello che vogliamo tutte le forme di male morale le disonestate la ruberia le corruzioni tutto è tutto volontà umana il male spirituale le cose le cose più quel senso profondo di solitudine il senso che Dio ti abbia abbandonato il senso e come dire lacerante non sano di colpa le freddezze nella preghiera capite le debolezze intellettuali cioè le nostre ristrettezze della nostra mente l'ignoranza per esempio la debolezza della volontà che è da lì è il male diabolico perché il demonio che esiste purtroppo e che deve essere considerato dentro un orizzonte di fede perché Gesù è venuto sulla terra ha patito tutto quello che stiamo per vedere in questi giorni per distruggere le opere di Satana ma Satana per entrare dentro il nostro cuore ha dovuto prendere un piede di porco un grimaldello e aprirsi un ingresso ha dovuto fare il peccato originale il peccato originale è stato lo sbandire da sé la volontà divina e fare un atto di volontà propria questo è stato conseguentemente noi possiamo stabilire un'altra proporzione un'altra quanto potere ha il demonio su di te tanto quanto gliene dai tu facendo la tua volontà e non quella divina punto d'accordo cioè ogni atto di volontà umana sganciata sganciata da quella divina non ci pensiamo è un amen detto al diavolo perché l'inventore della propria volontà è stato Lucifero è stato molto prima di noi non ci siamo inventati niente Lucifero a noi ce l'ha come dire ce l'ha provocato ce l'ha ce l'ha ce l'ha innestato ce l'ha iniettato il veleno d'accordo ma ha dovuto carpire il nostro consenso capite perché il peccato originale è stato un atto volontario non è che quelli l'hanno fatto come degli ebeti no no l'hanno fatto sapendo quello che facevano certo non avendo non avendo la percezione del disastro assoluto che sarebbe successo ma comunque sono usciti dalla volontà divina ascoltando una controcatechesi e dicendogli amen allora Gesù qui dice non c'è male nelle generazioni di cui essa non sia l'origine il seme e la fonte termini fortissimi cioè se uno prendesse sul serio queste cose adesso poi vedremo come conclude questo paragrafo Gesù è venuto a dire sapete che sono venuto a fare sulla terra io sono venuto l'unico io avevo solo un pensiero uno solo non ci sono altri pensieri ce ne avevo uno solo fare la volontà divina e basta non pensavo ad altro perché se uno prendesse sul serio queste cose o per esempio riflettesse bene oltre a Gesù c'è stata la Madonna che non ha la Madonna che non ha mai fatto un atto di volontà propria ma sapete significa non fare mai un atto cioè neanche un secondo capite niente né atto consapevole né inconsapevole né conscio né inconscio né volontà né involontà zero neanche il movimento d'un dito era di volontà di Maria di Nazareth neanche quello la Madonna l'ha presa sul serio sta cosa perché se si muove la tua volontà semplicemente in maniera autonoma quindi non fusa è la fine basta già quello per andare a fare un macello pure senza fa peccato pure senza fa peccato pure senza fa peccato è è terribile allora ed io in quel momento Gesù era coperto da tutta sta roba qui quindi si vedeva coperto da tutti quanti questi mali e da questa piovra che era la volontà umana che era come dire la fabbrica era la generatrice continua cioè qui si sta altro che le fabbriche a ciclo a ciclo a ciclo continuo altro che le fonti le sorgenti dove sgorga stacco in continuazione che sembrano che non finiscono mai perché in effetti la sorgente non finisce mai è una cosa continua non è che se tu non la puoi fermare la sorgente come fai ecco allora c'è questa volontà umana che sta continuamente cioè è una cosa continua è un disastro in perpetuo tutto riversato su di lui allora lui si sentiva travolto da questo dice dinanzi alla mia santità mi sentivo morire vedendomi coperto di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà e sarei morto se la divinità non mi avesse sostenuto capito cioè travolto dal male prodotto dall'umana volontà da tutta la montagna la mole sarebbe morto per quello quindi non servono i chiodi non servono i flageli non serve la croce non serve niente bastava quello sarei morto se la divinità non mi avesse sostenuto in questi giorni che sono tempo di passione prendiamo sul serio queste cose perché chi ascolta chi sta ascoltando in diretta sulla radio chi sta ascoltando in diretta facebook chi ascolterà il podcast chi vedrà il video su youtube cioè chi entrerà in contatto o chi semplicemente si leggerà questo scritto a prescindere da quel povero essere che lo sta leggendo e cercando di commentare non importa d'accordo perché non importa il commentatore ma in contatto importa il testo commentato allora se uno legge questa roba qui cioè tutto il male deriva dalla volontà umana e io sarei morto coperto di tutti questi mali se la divinità non mi avesse sostenuto ah qui uno deve fare cioè allora lo prendiamo sul serio o non lo prendiamo sul serio è un'esagerazione o non è un'esagerazione è un'idea di questa donna Luisa Piccarreta o è Gesù che sta parlando sicuramente l'episodio è successo perché qui sta parlando dell'esperienza del Gezzemani e che Gesù al Gezzemani ha pregato ha sudato sangue e per tre volte ha detto padre allontana da me questo calice però non sia fatta la mia ma la tua volontà questo è successo certamente questa è una lettura di quell'episodio si possono valutare altre letture che uno vuole però la lettura come dire che Gesù dà è questa io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature unite insieme e tutti i loro mali e a nome di tutti quindi non lo stava dicendo per sé ha fatto questa credere al padre padre liberaci da questo incubo adesso quando uno fa un incubo di notte ma quando me sveglio non posso non posso stare tranquillo se sta facendo un incubo non più la volontà umana sia fatta sulla terra ma la divina la volontà umana sia sbandita la tua vi regni non c'è altra soluzione al male nel mondo non ci sta sono tutte quante come dire pezze tamponi parziali d'accordo per carità in attesa che venga il regno della divina volontà qualche pezza bisogna pure metterla sia in noi che fuori di noi d'accordo leggevo c'era una delle meditazioni di queste mattine forse proprio di questa mattina che diceva quando arriverà il regno della divina volontà le nostre passioni se ne vanno non c'è bisogno di farla ma devo sforzare devo rimanere calmo devo dominare l'ira non mi devo lasciare dominare dall'ira e allora uno comincia e si impegna poverino c'è la mente tutta dice se magna la lingua 40 volte poi la 41esima sbotta e fa un macello e finisce mai si va a confessare ci sono ricascato vannaggia ecco è normale facciamo esperienza a tutti quanti è normale perché abbiamo le passioni impazzite dentro di noi questa è una conseguenza diretta del peccato originale allora che dobbiamo fare dobbiamo fare di tutto però vedete a volte sono delle battaglie snervanti perché tu ti mangieresti vivo chi ti sta davanti ti sale sta cosa da dentro e ti stai lì fermo zitto buono non reagire Gesù non vuole ci siamo al nemico cioè per carità in attesa che arrivi c'è nient'altro da fare perché comunque a mangiare non ci possiamo mangiare non possiamo reagire malamente però capite dopo uno casca pure in depressione capito perché magari due tre volte si mangia la lingua la terza volta fa la fine del mondo e dice ecco qua ce li siamo e poi cade in depressione d'accordo non bisogna deprimersi ma essi di spirito dicono no sei caduto rialzati confessati la prossima volta andrà meglio sicuramente però insomma è una situazione veramente triste no sono nostre miserie allora però non c'è nient'altro da fare perché fino a quando non siamo entrati bene nel regno anzi alla potenza della divina volontà si 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 come dire si disattiva è come se tu avessi disinnescato una mina cioè poi pure tranquillamente andrà sopra non esplode più però fino a quando questo non succede qualche pezza ce la dobbiamo mettere d'accordo così anche qui no cioè i mari nel mondo le guerre è chiaro che bisogna fare qualche trattato di pace bisogna cercare di tenere buoni quelli che sono un pochino facinorosi insomma no se il presidente degli Stati Uniti si fa due chiacchiere col presidente della Corea del Nord e cercano di assenacalmata siamo tutti contenti cioè è chiaro no ecco perché cioè in attesa di questo qualche cosa bisogna farla d'accordo ecco però la soluzione finale brutto insomma usare anche questo 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 termine diciamo la soluzione dei problemi è questa in noi e fuori di noi tutto tutto sta qui adesso prima di passare alla parte centrale torno alla parte finale faccio un salto alla parte finale dello scritto che abbiamo letto e poi torniamo alla parte centrale Gesù dice io sul pianeta terra non mi sono occupato di altro che della sola volontà del padre mio allora io questa è un'opinione mia personalissima d'accordo è anche un'esperienza diciamo così vissuta i primi tempi che stavo a contatto con questi scritti questo l'ho anche raccontato magari chi sta seguendo ste case che si fin dall'inizio lo sappiamo già andiamo avanti dico però in questa circostanza tocca fare un piccolo ripasso cioè io quando lessi queste cose ebbi la nettissima percezione che questa era una strada come dire risolutoria risolutiva d'accordo quindi non è come quando le leggi non lo so io ho letto un sacco dei libri dei santi o tutte le leggi non lo so la beata alexandrina maria d'agosto ovviamente questi giorni c'è stata la beata alexandrina maria d'agosto per esempio grande mistica grande anima vittima vissuta per tanti anni d'eucaristia lei ha avuto per esempio il dono da gesù di vedere bene le sofferenze interne che lui ha vissuto durante la passione un po' come suor Cecilia by magari tu te leggi gli scritti di maria valtorta un'altra mistica anche se non ancora canonizzata e tu vedi la passione esterna di gesù no? perché la descrive dettagliatamente quindi quindi cioè nelle varie forme come dire di spiritualità di ageografia sembra sembra come che il signore ci abbia dato a uno una cosa a uno un'altra cosa a un'altra tu le accogli tutte quante e le metti tutte quante insieme d'accordo è anche un po' il principio bello della santa chiesa cattolica che è una grande famiglia no? nella chiesa cattolica ci stanno per esempio fa capire qualcosa ci stanno le suore ci stanno i frati i monaci le monache poi ci stanno le varie istituti le congregazioni ci stanno i frati francescani i dominicani i carmelitani i gesuiti i barnabiti i comaschi le ordine delle suore qualcuno scherza che è una battuta che forse non lo sa manco manco nostro signore quanti istituti delle suore consagrate che ci stanno non dire totalmente tante ecco per dire no e ciascuno ecco perché poi nella chiesa nessuno deve mettersi a fare il maestro e dire io sono tutto io ecco devono fare tutti come me questa è una cosa ridicola d'accordo perché la divina volontà ha dato a ciascuno il proprio carisma e la bellezza della chiesa risalta proprio nel contemplare questa famiglia in tutta questa sua variegata bellezza però la divina volontà non è così la divina volontà non è dice allora adesso ci abbiamo un'altra spiritualità no perché la divina volontà è Dio quindi la divina volontà tutte queste le abbraccia tutte trasversalmente perché non lo so Sant'Ignazio di Loyola che ha fondato i Gesuiti ha fatto la divina volontà cioè la divina volontà voleva che nel 1500 in quel contesto storico sorgesse una nuova congregazione con quel carisma particolare e ha chiamato delle persone a farne parte quindi chi è entrato nei Gesuiti ha fatto la divina volontà e santificandosi nell'ordine dei Gesuiti quella singola persona che lì dove è entrata ha fatto la divina volontà capito quindi questo non è una spiritualità questa è come dire la linea trasversale che già implicitamente ha attraversato tutte le forme di vita e tutte le spiritualità della Chiesa ora qui viene dispiegata in tutta la sua pienezza e allora Gesù che ha fatto sul pianeta Terra la divina volontà perché ha costruito perché ha fatto la Chiesa a Gesù perché così voleva la divina volontà se non ci sarebbe la Chiesa Cattolica perché Gesù ha eletto Pietro capo della Chiesa e ha trasmesso il primato di Pietro ai suoi successori che piaccia o non piaccia perché questa è la volontà divina perché ci stanno i preti ci stanno i vescovi ci stanno i cardini perché questa è la volontà divina d'accordo lui non ha fatto altro che questo solo questo d'accordo in quello che ha fatto e in quello che ha vissuto in ogni istante della sua esistenza e dice io ho insegnato solo una preghiera Gesù non è stato un grande Gesù pregava con i salmi come tutti gli ebrei questo lo facciamo anche noi questa è una preghiera antichissima insegnata da Dio fin dall'Antico Testamento abbiamo i 150 salmi del Salterio e li facciamo pure oggi Gesù non ha mica insegnato tante altre cose ha insegnato il Padre Nostro basta basta non ha fatto nessun'altra preghiera l'Ave Maria noi l'abbiamo composta ecco dalla d'Angelo di Luca annunciazione visitazione poi tardiva è l'aggiunta della seconda parte dove la Santa Madre Chiesa ecco chiede l'intercessione della Madonna perché preghi per noi adesso e nell'ora della nostra morte ok basta il Gloria al Padre la grandezza del Rosario ce l'ha insegnato San Paolo è la finale di una delle sue lettere basta perché ci danno tante preghiere da insegnare perché il senso della preghiera cristiana che serve la preghiera cristiana la preghiera cristiana serve a farci fare la volontà di Dio a darci le grazie per fare in tutto la volontà di Dio e basta dice se una preghiera insegnai non fu altra che la volontà divina si faccia come in cielo e così in terra perché il culmine del Padre Nostro è fiat volontas tua sicur in cielo e in terra il fiat santificante di cui parliamo il regno della divina volontà è il compimento perfetto di questa petizione del Padre Nostro cioè voi sapete no quando uno ha studiato la divina volontà dice sto preparato che cos'è il fiat creante il fiat creante è il fiat lux pronunciato da Dio al momento della creazione è all'innesco della creazione cos'è il fiat redimente è il fiat michi pronunciato dalla Madonna come risposta all'angelo che ha aperto le porte che cos'è il fiat santificante il fiat volontas tua sicur in cielo e in terra questo è dice ma come il fiat santificante è venuto nel 2000 quasi ma Gesù non l'ha insegnato nel quando era ancora sulla terra ecco qua e adesso torniamo alla parte centrale del nostro scritto che dobbiamo tornarci indietro d'accordo cosa ci ha detto Gesù una cosa molto importante ci ha detto che addirittura attenzione la stessa opera della redenzione era secondaria rispetto al fine primario che era che il fiat volontas tua sicur in cielo e in terra tornasse a regnare ripeto il passaggio io dovetti prima realizzare lo scopo del fiat volontas tua cominciare così in terra cioè farlo io e poi formare con le mie pene la redenzione perché la stessa redenzione entra nell'ordine secondario e perché perché sebbene dei frutti della redenzione si viderano gli effetti i sacramenti sono tutti quanti i frutti della redenzione ma fu in virtù di questo contratto concluso nel Gezzemani che io feci col di mio divino padre che il suo fiat doveva venire a regnare sulla terra realizzando attenzione il vero scopo della creazione dell'uomo perché noi siamo stati creati per vivere di volontà divina perché solo se vivi di volontà divina tu realizzi il fine per cui Dio ti ha creato che non è solo che tu vada in paradiso a godere della visione beatifica perché questo ci si arriva anche con il fiat redimente se una persona osserve i comandamenti e cese confessa e all'inferno non ci va d'accordo se farà un po' deburgatorio ma comunque ci arriva al fine ultimo ma la vita terrena com'è? è una vita felice? Già qui? Non tanto se vuoi avere una vita felice già qui non basta che ti sforzi ad osservare i comandamenti e che stai in quello stato che abbiamo visto prima che te partono i cinque minuti e devi magnarti alla lingua che vivi in questo dramma no? no ci vuole che venga il regno del fiat divino del fiat supremo quindi perché la stessa redenzione dice Gesù entra nell'ordine secondaria Dario perché il vero scopo della creazione dell'uomo ed il mio primo scopo per cui venni sulla terra era che il fiat regnasse nell'uomo è chiaro che perché questo fosse possibile essendo ormai la natura umana prima della grazia rovinata pur essendo il fine del fiat primario e quello della redenzione secondario però cronologicamente è chiaro che viene prima la redenzione e poi il regno del fiat supremo perché se tu non ti liberi almeno dalla schiavitù al peccato ma te lo sogni di entrare nel regno del fiat supremo non è possibile per i mali che sono entrati nella razza umana d'accordo ora e questo perché perché il primo atto defasto dell'uomo fu sottrarsi la volontà suprema questo fu il peccato originale e quindi il primo scopo per cui veni sulla terra era che la volontà divina prendesse il suo primo posto d'onore nella creatura e quindi nel gezzemani Gesù facendo questa preghiera non mea voluntas sed tua fiat attenzione in quel momento è costituita lo dice lui l'epoca del fiat voluntas tua sulla terra è già inaugurata quindi poi è passato un arco di tempo molto lungo prima che dall'inaugurazione cominciasse ad esserci l'ingresso di qualcuno in questo regno e in quest'epoca epoca che in qualche modo sembra essere dagli scritti come dire profetizzata ci sarà un momento in cui si sa come non si sa quando non si sa bene ma c'è un'era del fiat supremo che deve essere qualche cosa di meraviglioso noi speriamo quello che possiamo e che se vogliamo dobbiamo fare è fare in modo che l'era del fiat cominci dentro la mia anima questo è alla nostra portata se lo vogliamo e se operiamo con questa intenzione e poi Gesù spiega che era fatta per tre volte questa preghiera bellissimo perché con la prima impetrava quest'epoca e questo regno con la seconda invocazione la faceva scendere e con la terza la costituiva regnante e dominatrice a quanto è dato di capire la seconda petizione di Gesù ci siamo perché la volontà divina è scesa sulla terra adesso si attraverso questi scritti che speriamo presto io me lo auguro vivissimamente insomma no che presto la chiesa riconosca formalmente come suo patrimonio perché tanto questo suo patrimonio ci sono senza nessunissimo dubbio cioè io sono talmente proprio quando leggo queste cose mi sento talmente proprio nel cuore della vita della chiesa proprio nei polmoni di questo organismo che ha duemila anni di vita che ha generato fior di santi cioè capite quando uno legge io ne ho studiate tante riconosciute non riconosciute quando uno legge una rivelazione privata qualunque sia se è riconosciuta dalla chiesa sta un po' più tranquillo d'accordo quando non è riconosciuta uno deve stare sempre con le antenne addrizzate sempre questo è sempre è sempre prudentissimo d'accordo per cui uno potrebbe dire beh ma tanto il massimo che succede io sto cauto non è autentica al cento per cento la vita va avanti lo stesso perché abbiamo la fede divina e cattolica d'accordo cioè una rivelazione privata non aggiunge nulla a ciò che già c'è nel patrimonio della chiesa però qui si tratta semplicemente di far fuori uscire il cuore della vita della chiesa perché la divina volontà non è altro che il cuore cioè tutti noi coscienti se stiamo nella chiesa ho scritto ieri un articolo per il settembre di padre Pio bellissimo dove nella Lumen Gentium si parla della differenza che c'è tra stare nella chiesa solo col corpo o solo col cuore o che la cosa migliore sia col corpo che col cuore cioè chi sta dentro la chiesa col corpo e col cuore quindi non è semplicemente stato battezzato ma cerca di vivere con la chiesa di vivere i sacramenti di pregare di formarsi di vivere la chiesa in tutte le sue dimensioni che cosa fa se non cercare di vivere in qualche modo la divina volontà cioè l'esistenza stessa della chiesa è divina volontà il fatto che la chiesa l'ho detto tante volte cioè non è non è non è non è distruggibile la chiesa cioè qui chiunque ci abbia il sogno con il diavolo in primis alla facciaccia sua che se lo sogna di distruggere la chiesa ma non ci riuscirà mai mai su questo possiamo stare proprio tranquilli d'accordo tranquilli perché non è volontà divina che la chiesa sia distrutta e quando Dio dice no si può scatenare pure tutto l'inferno messo insieme con tutti quanti i loro collaboratori umani presenti, passati e futuri possono fare tutto quello che vogliono ma questo è no chiaro? no ecco perché bisogna essere bisogna sentirsi devoti della chiesa e figli devoti della chiesa più che ogni altra cosa capite? capite? perché stiamo al sicuro d'accordo? al sicuro ma ripeto la vita della chiesa è la divina volontà lo è la vita autentica della chiesa adesso non stiamo a guardare che purtroppo da Giuda in poi ci sono sempre stati come dire i traditori quelli che purtroppo sputano sopra le grazie ricevute dal nostro signore eppure letti a grandissima chiamata ne fanno anziché fonte di grazie nel presente e nel futuro fonte di rovina nel presente e di rovina ancora peggiore nel futuro questo purtroppo c'è sempre stato il mistero mistero iniquitatis d'accordo però la chiesa nonostante i tanti giuda di allora e di sempre sapete che si dice c'era una battuta che girava non mi ricordo un aneddoto se detto da non mi ricordo se da tutti i santi dal benato paolo sesto quasi santo da san giovanni paolo secondo non mi ricordo se come dire tra il serio e il faceto disse a gesù ti andrà meglio di me perché lui ce n'aveva uno su dodici diciamo c'era undici su dodici ce ne sta uno fedele su dodici ma è andata un po' peggio scherzando diceva così ma possono essere pure dodici su undici su dodici ma non succede niente comunque questa rimane in piedi rimane non ci si può fare niente capite c'era un altro aneddoto l'ho raccontato sapete che la festa di santa maria ausidatrice il 24 maggio fu istituita da pio settimo quando miracolosamente tornò a roma il 24 di maggio a seguito di tante preghiere del popolo romano rivolta alla madonna dopo che era stato deportato in francia e incarcerato da sua eccellenza Napoleone Bonaparte uno dei tanti megalomani che nel corso della storia si è messo in testa di far fuori la chiesa d'accordo e questi quando si dice questo è un altro aneddoto che quando arrivavano insomma in francia c'erano i gerarchi di napoleone a prendere in giro i cardinali dicevano abbiamo preso il papa ormai la chiesa è in nostro potere ci avete i minuti contati pare un cardinale insomma di quelli ecco un po' sornioni e sapienti disse sua eccellenza pensa che siccome ha rapito il papa distrugge la chiesa ma ci provi pure insomma e pare che questa è un'altra battuta un po' aspra dice noi siamo circa 17 secoli che stiamo cercando di farla fuori quindi dall'interno non ci siamo ancora riusciti poi se sua eccellenza ci riuscirà bene spiegherà la storia come ha fatto ma non ci è riuscito sua eccellenza a fare fuori la chiesa nonostante che avesse rapito Pio VII cioè nel corso della storia della chiesa tra l'altro non volevo parlare di questo qui però dato che ci stiamo parliamo anche di questo qua non è successo talmente voi immaginate oggi tutti quanti gli allarmi tutti quanti e se avessero rapito il Papa immaginate che un tiranno fosse venuto a Roma e essere rapito il Papa ma che stai potrebbe da l'olio santo no già successo d'accordo adesso nessuno ha rapito il Papa ma se anche succedesse finimo San Giovanni Polo II gli hanno sparato io me lo ricordo benissimo io ero c'evo dieci anni nell'81 io me lo ricordo benissimo quando andò in onda sta ragazzina con il suo palloncino in mano lo ricordo benissimo è un fatto grave che sparano al Papa o no poi morto o non morto ma che hanno sparato comunque quindi ne sono successe tante siamo sempre usciti in piedi come prima o meglio di prima quindi non è questo il problema ecco attenzione però ultimo punto quindi come il primo atto dell'uomo fu sottrarsi alla divina volontà così tutto quello che Gesù ha fatto sulla terra e il suo primo obiettivo quindi il dono che voleva dare era questo ridare la divina volontà ricordate il discorso di Gesù alla Samaritana quando gli dice se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere tu stessa gliel'avresti chiesto i padri della Chiesa interpretarono da Sant'Agostino in poi il dono di Dio e lo Spirito Santo certo anzitutto lo Spirito Santo cioè la vita della grazia senza la quale non è possibile assolutamente nulla ma qual è il dono con la D maiuscola il dono è la vita nella divina volontà che tu puoi vivere stando 24 ore al giorno voglio che faccia tutto devi girare tanto intorno ad esso da farti bruciare dell'alito eterno del fuoco della mia volontà in modo da perdere qualunque altra conoscenza e di null'altro sapere che solo e sempre il mio volere non pensiamo assolutamente che queste parole sono rivolte a Luisa Piccarreta perché lei era una povera donna che viveva da sola poi non stava manco in monastero non c'era manco da osservare una regola quindi poteva non pensare altro no 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 questo vale per tutti questo qui non è una cosa da da anima single o da anima vittima questo è una cosa che vale per tutti se uno comprende che dentro il divino volere trova il tutto adesso mi chiede il tutto il tutto il tutto il tutto e Gesù spiega come mai duemila anni dopo perché prima che arrivasse il dono dei doni tutti dovevano prepararsi quindi prima che arrivi il re la corte i popoli gli eserciti i ministri devono trovarsi all'altezza della sua divina maestà duemila anni di storia della chiesa duemila anni di santi d'accordo penso che abbiate sentito c'è un rumor che gira io lo dico e lo ritrasmetto perché dovrebbe essere una cosa prossimissima che sta per uscire un documento nuovo del papa che parla della santità ecco io sono curiosissimo insomma di andarlo a leggere ecco spero che ci si trovi dentro qualche cosa di questo su cui stiamo meditando dicono che doveva uscire in occasione dell'anniversario del del pontificato il 13 marzo poi hanno posposto a san giuseppe poi l'ultima data che la danno entro pasco perché pare che stai stiano trovando difficoltà con le traduzioni ecco ma duemila anni di santità in vista della santità delle santità che è la divina volontà questo gesù pensava nell'orto degli olivi quindi magari quando sentiremo dire durante le liturgie di questi giorni sentiremo pregare Gesù dice padre non sia fatta la mia ma la tua volontà pensiamoci d'accordo sta parlando a nome nostro sta dicendo guarda che sto dicendo questa cosa perché tu che stai ascoltato questa catechesi tu nel tuo cuore possa dire bene da oggi basta perché Gesù non c'era nessun pericolo che non facesse la sua volontà che non facesse la volontà del padre che facesse la sua nessuno tu invece sì ci sono molti pericoli perché tutti gli esseri umani purtroppo campano facendo quello che gli pare a loro e con questo autocondannandosi diventare la fonte di tutti i mali presenti nel mondo ricordiamo fisico psichico morale spirituale e diabolico perché questo processo si fermi una volta per sempre è necessario che dentro di noi entri il fiat voluntas tua sicuro in cielo e in terra il non mea voluntas sed tua fiat un santo triduo pasquale a tutti e ci sentiamo a dio piacendo alla prossima puntata la mia benedizione ave maria